Questo è il pilastro, c'è qualcosa che scrive, ma ce n'è ancora una più grave, e che interessa un po' di noi, modesto o meno classe dirigente del Paese. In questo momento il Paese, il mondo, è governato dal sistema dei capitali, non sono le persone che decidono, non è giusto per distribuire le ricchezze, ma sono i capitali. E qualcuno che viene dicendo, il più giuntasto del Cine sarà, e quale sarà il governo in Francia, in Germania, che cosa accadrà in America, cioè io non ce l'ho con il governo dei capitali, anzi, ma se è governato, se è governato, se serve a ridistribuire e a governare i processi di innovazione e ricchezza, è stata benissimo, è una grande testimonianza del fallimento nostro, classe dirigente rispetto invece ai senti o mani, e alla storia della libertà del mondo. Grazie a voi, grazie alla discepzione che mi ha fatto il carico, e grazie a tutti, un abbraccio a Rita e anche ai tuoi familiari, che mi avevano, ci avevano anche invitato insieme a Laura, noi abbiamo un ottimo rapporto, come tu sai, anche Carlo è uno poi che insiste, eccetera, però per ovvie ragioni non potevamo di essere lì. Però abbiamo voluto, grazie anche a noi dirigere, con il palone e con la fascia che è il simbolo della città, non di Giacomo Franchida, a rendere omaggio, oltremodo, come città, al sacrificio di una persona normale in un periodo straordinario, un eroe che speriamo di poter quantomeno veramente fare nel nostro tempo. Grazie, grazie a tutti. Noi speriamo anche con questo di far crescere, questa memoria collettiva, questa coscienza critica, con le lampi, con un testamento, chiedendo a tutti voi un'adesione all'arte. Chiudiamo con la signora e con la vicepresidente paciente funzione dell'Ampi, Angela Savola. Andi qua una cosa ben facciata adesso. Alla bambina, la bimba, la bimba. Sì, si fa la bimba. Angela, come fai? No, non c'è la data di oggi. Ma c'è la data di oggi? No, 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 è cosenta che si chiudiamo. La data comunque ci andava, perché domani io passo di qua. Ok? Ok.